Buonasera a tutti, ai microfoni di Vivi Casagiove abbiamo il coprotagonista della terza serata di Arte Estate 2014, Pietro Menditto. Salve a tutti, buonasera. Ciao Pietro, dalle poche notizie che ho raccolto su di te ho capito che sei un musicista, specialmente un pianista, e sei anche un cantante neomelodico. Un autore di canzone. La prima domanda che sorge spontanea è quando è nata questa tua passione per la musica? Ero piccolino e ho più o meno 5 anni con il pianoforte di mia mamma, la vendola a casa perché anche adesso mi aveva, facevo dei rumori più che altro. Io ho iniziato a studiare, avevo 7 anni, l'età di 7 anni, poi mi sono, cioè io ho un diplomato per il pianoforte, mi sono diplomato di Benevento. Sicuramente avrai incontrato qualche difficoltà con questo cammino perché difficoltà non mancano mai. Però questa sera voglio correre l'accento sulle ambizioni, sui tuoi progetti, quali sono i tuoi progetti futuri? Quello di fare il cantautore. Te lo auguriamo. Grazie. E poi come ultima domanda per concludere ci troviamo qui nel quartiere militare Borbonico che è un po' il fiore all'occhiello di Casa Giove. Come artista emergente casagiovese sei contento di esibirti tra noi? Premetto che non è la prima volta che sono esibiti già, cioè già in altre occasioni, sotto altre vesti più di altro. Faccio del pianista di musica classica in quella. Quindi comunque è una veste nuova stasera. Sì, 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 è una veste nuova. Quindi il nostro in bocca al lupo... Sono contentissimo tra l'altro da artisti così importanti, sono veramente potenti. Il nostro in bocca al lupo non può mancare come l'augurio di una lunga e prospera carriera. E poi ora lasciamo un saluto a tutti i lettori di Vivi Casa Giove da parte dell'artista che si esibirà a breve. Ciao a tutti da Pietro. Mi raccomando, seguite Vivi Vivi Casa Giove perché è una realtà veramente importante. E un'ultima cosa, per chi volesse seguirci tutte le serate di Artestate 2014, potrete trovare le prossime serate presso la pagina di Vivi Casa Giove di Artestate 2014 che sono curate dalla nostra relazione. Un saluto a tutti.